buongiorno a tutti ragazzi grande marvin volevo ringraziare marvin che grazie alle sue conoscenze nazionali è riuscito a farmi salvare questa due cavalli che era qua da 5 6 mesi avevamo presa per un eventuale restauro ma ma poi sono cambiate le idee sono cambiati gli impegni sono cambiate tante cose in poco tempo questa dovrebbe essere una 72 nella fanale tondo tipo charleston non è un 89 che insomma non ha avuto così tanto successo mascherina piccola presa d'aria piccola come la volete chiamare purtroppo è stata vandalizzata dai ragazzi della nuova società della nuova epoca vetri rotti cofano con delle saltate sopra e niente questa però comunque completamente originale ma ci sono i vetri parabrezza il vetro laterale per sostituzione per la sostituzione punti di ruggine non non passanti la parte qua cinque cerchi tutta completamente originale ancora le gomme originali ciao originali nel senso comunque invecchiate con la macchina e niente questo è quanto è stata salvata ringraziando questo questo amico del marvin di venezia faccio vedere il motore la macchina è stata parcheggiata in moto cinque quattro cinque mesi fa niente questo è quanto dettaglio anche di aaron dettaglio dei cerchi per gli appassionati come me niente con questa vi saluto grande marvin un abbraccio speriamo di rivederci ciao grande